Enzo Sorbo, l'Amaro Teggiano è sempre più caratterizzato verso il locale, sono stati inaugurati i cioccolatini made in Teggiano? Sì, abbiamo deciso di puntare sul territorio, abbiamo scelto Domenico Manfredi perché credevamo era il migliore su Teggiano ma anche nel vallo nel fare questa cosa e abbiamo deciso di puntare in un cioccolatino all'Amaro Teggiano, made in Teggiano, a chilometro zero. Infatti ultimamente stiamo puntando molto al territorio, a valorizzare il territorio, abbiamo fatto anche una sorta di mini campagna promozionale sul web che si chiama Uniti nell'Eccellenza dove insieme a Domenico Manfredi e Angelo Rumolo di Caggiano cerchiamo di portare avanti i prodotti made in Vallo di Diano cosa che purtroppo non sempre accade, si punta sempre al commerciale se non all'economico e noi non vogliamo che sia così e speriamo che la nostra campagna sia di esempio, sia d'aiuto e che si uniscano a noi tante eccellenze del Vallo di Diano perché qui siamo pieni di eccellenze e purtroppo molti non sanno ciò. Dove e quando potranno essere assaggiati i cioccolatini? Allora l'esordio avverrà al Magic Hotel con i mercatini di Natale dal 4 dicembre al 13, poi dal 18 al 21 che ci sarà un piccolo intervallo. Speriamo di avere successo, speriamo che piacciono i cioccolatini tra l'altro ci saranno delle nuove versioni rispetto all'anno scorso Manfredi si è sbizzarrito con le idee e quindi sarà una bella sorpresa, una dolce sorpresa per tutti gli ospiti.